Una bellissima sensazione riuscire a proseguire questa striscia di quattro punti consecutive, vedere che io sono contento perché il pubblico è stato contento ed è stata una partita difficile perché ha mostrato anche che noi abbiamo continuato a spingere, a continuare ad essere intensi. Mi sento molto meglio, ho avuto un periodo di tempo. Infortuni fa una parte della palla canestro, è frustrante quando senti dolore e non puoi contribuire, però adesso mi sento molto meglio, mentre prima la schiena mi faceva male, questa cosa mi ha impedito di allenarmi con una certa continuità, sicuramente adesso le cose stanno piano piano mirando meglio. È frustrante non essere potuto stare qui e credo che c'è molta ruota per crescita. E anche se abbiamo vinto di 22 punti, nonostante tantissimi errori che abbiamo fatto. quindi questo è un segno di quanto le cose possono ancora migliorare. Sì, sì, io mi sto abituando al fatto che magari non devo giocare tutto il giorno contro Brian, oltre contro Lebron, fa parte della vita di più professionista. Questo non vuol dire che non siamo in base di due minuti. Sì, sì. Credo che come il gioco è stato migliorato e anche se il gioco è stato migliorato, anche se il gioco è stato migliorato, è un gioco più professionale. Sì, per sicuramente. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. È diverso, così. Sì. 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 Sì.